buonasera a tutti e come sempre bentornati sul mio canale oggi tocca a me farvi vedere le mie borse allora da premettere che io sulle borse non ho borse buonasera a tutti e bentornati sul mio canale questa sera nel mio canale si parlerà di borse che a noi donne piacciono tantissimo da premettere che io non compro borse costosi costosi poi ragazze quando sono andata alla cassa la ragazza della cassa mi ha dato questo test allora praticamente questo test è un kit della prevenzione dentale allora all'interno esce buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi in questo video vi voglio parlare di un brand che ho iniziato veramente ad amare tantissimo e sto parlando delle driadi allora ragazzi questo brand che cosa dire questo brand produce tutti i prodotti naturali senza parabeni vengono i loro le loro creme ma con ragazzi e come ho detto prima ho messo già i pennelli a mullo adesso cosa facciamo e andremo a prendere una barretta e inizieremo a pulirli allora eccomi che prendo prima questo qui che ho un duo prendo lo spruzzo vado a spruzzarlo e poi prendo questo qui e vado a pulire ed ecco qui guardate quanto sporco esce da questo pennello allora ragazzi io questo procedimento procedimento buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi vanno un piccolo problema siccome penso anche tutte le mie amiche presenti su youtube non odiamo tanto i peli sulle braccia siccome io faccio l'aceretta sulle braccia e vado vado nel centro estetico di solito a farla questa volta ho deciso di non andare una donna inizia eccoci qua amiche mie sono rientrata a casa girano questo video dalla mia camera da letto perché giù c'è mio figlio che sta facendo video lezioni con il prof e devo dire che questo è il volantino di dicotà questo mese ticotà ha messo veramente tantissime offerte sia per l'igiene per la casa per il make up per la cura della pelle e comunque iniziamo allora come primo prodotto ho preso questo deodorante per ambiente naturalmente voi immaginate in che profumazione ivana l'abbia mai preso eccoci qua amiche mia e amici miei perché mi seguono anche tantissimi uomini e sono ritornata a casa qui allora questo video lo girerò dalla mia camera perché purtroppo giù c'è mio figlio che sta facendo le relazioni con il prof e quindi ci dobbiamo adattare allora devo dire che questo mese ticotà ha messo veramente tantissime offerte cose molto utili per la casa per il corpo per la skin care eccoci qua amiche mie sono ritornata a casa allora questi prodotti che ho comprato ve li farò vedere dalla mia camera perché giù c'è mio figlio che sta facendo video lezione con il prof e quindi mi sono dovuto organizzare qui nella mia camera allora questo era il volantino di dicotà queste sono le promozioni del mese di marzo e quindi adesso vi farò vedere la mia busta e quell'altra stanno che iniziamo allora devo dire che c'erano tantissime tantissime offerte questo mese di marzo tipo da messo veramente belle cose allora come primo prodotto ho preso questo deodorante per ambiente indovinate a che gusto l'ho preso a che no a che gusto sembra me buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi parleremo siccome abbiamo parlato di borse la scorsa volta la scorsa volta